11 febbraio 2021 in diretta da simbario sullo sfondo il calendario 2021 del parco naturale regionale delle serre calabre e mezzo a tante foto la foto delle cascate di pesacupa firmata da ggj guardate che meraviglia non solo la foto ma tutto il calendario ci sono anche altre bellissime foto con questa foto volevo promuovere voglio promuovere il paese di elce della vecchia e tutti i suoi abitanti ospitali e meravigliosi nelle zone di pesacupa il lupo è di casa guardate ci sono un sacco di altre bellissime foto di michelangelo serra che è un grandissimo fotografo e poi tante altre io vi consiglio di passare al parco delle serre a ritirarlo è gratuito ringrazio anche melania carvelli pititto e tutti i membri del parco delle serre per avermi pubblicato anche a me la foto delle cascate di pesacupa un saluto a tutti da ggj grazie a tutti